Sì, sono anni che noi denunciamo che all'interno degli alloggi di edizia residenziale pubblica vivono persone con un tenore di vita altissimo, che vuol dire che sfondano, occupano abusivamente, quando va bene pagano 10 euro d'affitto e con le attività illecite guadagnano dai 500 ai 1000 euro al giorno, soprattutto con lo spazio di droga. E poi hanno macchine parcheggiate sotto da 70 mila euro. Allora, qualche giorno fa è uscito un articolo di giornale che ci racconta che all'interno di un alloggio che sta qui a pochi metri da noi, dietro di noi, è stato trovato un malloppo di 100 mila euro in contanti. Allora, questa è una cosa che a me mi ha fatto indignare, arrabbiare e quindi pretendo che il proprietario di queste case, cioè la Regione Abruzzo e quindi legare i rappresentanti e il Presidente di Regione Abruzzo, avvii una grande stagione di sgombero, di sfratto degli occupanti abusivi, ma non solo, di coloro che hanno un telore di vita altissimo e quindi non possono detenere un alloggio popolare. A tutela di chi? Di tutti quei cittadini onesti. Ce ne sono 750 famiglie oneste che stanno aspettando da 10 anni un alloggio popolare e poi ci ritroviamo persone che all'interno dell'alloggio popolare hanno 100 mila euro in contanti, nascosti nell'intercapedine, in malloppi di soldi da 100 euro, 50 euro. Questo è vergognoso. Io sono veramente fortemente indignato. Non posso più concepire questo. Quindi il Presidente di Regione intervenga per lo sgombero e la decadenza per far decadere questi signori, congiuntamente col Sindaco che ha anche le sue competenze e poi alle forze dell'ordine chiedo indagini patrimoniali, indagini patrimoniali per verificare il tenore di vita e avviare le cosiddette confische. Questo va fatto immediatamente.